salve amici e amiche chiedo scusa in anticipo oggi perché sono fuori sede e sto facendo questo video con il portatile che non ha delle grandi prestazioni quindi se vedete qualche scattino nel video è a causa di quello però diciamo che la notizia che volevo commentare per me che mi occupo di aviazione è davvero importante quindi la volevo portare alla vostra attenzione quindi vediamo di cosa si tratta allora faccio partire questo video che è appunto la notizia in questione lo guardiamo e poi lo commentiamo ok allora quello che vediamo è un abbattimento aereo i filmati che li mostrano sono davvero rari quindi è un'occasione troppo ghiotta per me per parlarne dopo che i residenti nella regione del donesk hanno inquadrato questo evento la versione di mosca è arrivata praticamente subito non è tardata ad arrivare la versione che è stata proposta questo lo riporto almeno da quello che dice il giornalista del kiev post jason j smart è che la russia ha abbattuto un suo stesso su 25 sopra il donesk in ucraina ok un su 25 questo qui non questo scusate ma questo su 25 se prendiamo wikipedia e mi risponde ecco qua oh scusate ripeto è un po' è un po' bloccato questo portatile vi faccio vedere l'immagine ed è questo questo aereo qui allora è un aereo da attacco al suolo allora stiamo parlando di un bombardiere praticamente specializzato per fare supporto appoggio aereo al suolo è capace di fare soppressione delle difese aeree ma comunque è un aereo pesante lento senza post bruciatore non è capace almeno non è nelle sue corde di volare ad alta quota così alto da generare scie di condensa ma soprattutto perché è progettato per essere efficiente e dare il suo meglio negli attacchi al suolo a bassa quota infatti è pieno stra pieno di video anche vengono passati nei telegiornali in cui sia su 25 russi che su 25 ucraini svolazzano a bassa quota mentre fanno le loro missioni quindi che i russi abbiano dichiarato che oggi è stato abbattuto un su 25 con questa modalità ad alta quota mentre generava scie di condensa è una cosa un po' insolita ora faccio una premessa tutto quello che dirò in questo video sono mie opinioni personali che si basano sulle mie conoscenze quindi prendiamole per quello che sono però vedere un su 25 che fa scie di condensa è strano poi hanno parlato di fuoco amico il fuoco amico può succedere ci mancherebbe ci sono dozzine di casi documentati però però c'è da dire anche una cosa che il suo 25 essendo un aereo nato per fare attacco al suolo non ha grandi possibilità di fare aria aria diciamo che può equipaggiarsi con due missiletti per l'autodifesa o eventualmente per attaccare elicotteri però il pilota per poter utilizzare quei missili in poche parole deve bypassare le avioni che pensate e progettate per fare attacco al suolo in qualche modo si collega ai sensori del missile il missile cerca le fonti di calore quando il missile trova una fonte di calore emette un suono acustico nelle orecchie del pilota a quel punto il pilota deve attivare le armi letteralmente e può premere il grilletto a quel punto il missile va sulla fonte di calore quindi capirete che ci sono tanti passaggi intenzionali da fare non stiamo parlando di un fuoco fai uno starnuto e premi per sbaglio il grilletto della pistola non funziona proprio così quindi non credo onestamente alla versione proposta da Mosca se parliamo di fuoco amico accidentale se invece parliamo di un fuoco amico intenzionale allora alzo le mani ok può essere fatto voglio dire c'è un aereo davanti chi lo sta seguendo decide arbitrariamente di farlo fuori cambia la modalità preme il grilletto parte il missile ciao ok a quelle distanze senza preavviso il pilota che è stato oggetto dell'attacco non poteva fare assolutamente niente per evaderlo quindi onestamente la cosa che non torna comunque nelle immagini è la quota prima di tutto ma anche per esempio la manovra che fa il pilota dopo aver lanciato il missile come si vede questa virata che insomma è una virata di disimpegno dopo un attacco non si tratta di un fuoco amico accidentale vediamo se riparte nel frattempo perché sta veramente inchiodato il portatile allora ci sono poi altre informazioni che sono arrivate ripeto al tanti canali oggi su X hanno proposto questo video riportando le informazioni giunte da Mosca in cui si parla di un su 25 abbattuto da fuoco amico mettiamo un attimo in discussione questa versione e vediamo per esempio cosa è arrivato al suolo perché come ho detto prima l'aereo è stato abbattuto sopra il Donetsk quindi in territorio ucraino e quindi gli ucraini sono arrivati per vedere di cosa si trattava e i rottami mostrano questi oggetti ora questa non è l'ala di un su 25 ripeto su 25 e questo non ha la punta dell'ala con questa strana geometria le ali del su 27 ci sono delle tip queste tip vedete non è fatta così l'ala di un su 27 vediamo se c'è un'altra immagine ecco lì vediamo il trittico come vedete la punta delle ali del su 25 scusate ho detto su 27 la punta delle ali del su 27 ospita una piastra che si apre e funge da aerofreno gli aerofreni del su 25 si trovano alle estremità alari quindi come vedete la geometria è molto diversa è una freccia molto blanda direi quasi inesistente mentre in queste immagini vediamo una freccia molto accentuata e poi notiamo anche un'altra cosa interessante la livrea ora generalmente quasi tutti gli aerei d'attacco al suolo quelli specializzati hanno una livrea verde tonalità di verde beige questi colori insomma che servono per mimetizzare l'aereo sullo sfondo del terreno gli aerei che volano ad alta quota invece hanno livree grigie ok quindi non credo che questa ala sia quella di un 25 poi c'è un altro dettaglio nelle foto che vi mostro per esempio i motori il su 25 questi sono sempre i rottami che sono arrivati a terra il su 25 ha due motori ai lati della fusoliera che escono con l'uscita sotto la fusoliera due piccole uscite dei motori degli ugelli di scarico quindi qua invece nelle foto vediamo un solo motore quindi una delle cose interessanti che possiamo dire è che possiamo quasi dire con certezza che quello che è caduto al suolo non era sicuramente un su 25 bensì un su coi 70 questo grosso drone stealth russo da 20 tonnellate che è stato studiato e progettato per affiancarsi al loro caccia più moderno il sucoi 57 questo drone in sostanza è uscito nel 2019 è stato annunciato come la grande novità stealth russa la geometria se parliamo almeno di forme è sicuramente stealth come intenzione è pensato almeno se dobbiamo basarci sulle dichiarazioni del cremlino è costruito in materiali compositi e ha una baia interna una stiva per trasportare probabilmente armi come bombe di precisione o missili da crociera non lo sappiamo i motori il motore centrale che vediamo non è schermato non ha i cunei per schermare la propria firma a infrarossi la temperatura in sostanza il calore mentre si presenta come un motore tradizionale convenzionale che non ha nessuna contromisura per non farsi vedere nello spettro della luce infrarossa il che è un po' anche in linea con l'economia che è stata fatta anche sul loro caccia migliore il suo 57 se frontalmente può sembrare quasi un caccia moderno la parte posteriore un po' come questo drone è quella di un aereo degli anni 80 90 nessuna intenzione di riduzione né della firma radar né della firma a infrarossi quindi per per concludere questo discorso i rottami non sembrano affatto quelli di un su 25 bensì di un su coi 70 il fatto che sia caduto sul territorio ucraino è un gran colpo perché in questo modo gli ucraini potranno mettere mani su queste tecnologie chiamiamole di avanguardia russa potranno studiare i materiali compositi potranno studiare l'elettronica le antenne di comunicazione tutto quello che è insomma all'interno del mezzo per fare poi le dovute analisi comparazioni insomma è sempre una gran cosa e questo è un po' mette in risalto un altro aspetto della questione cioè se i russi hanno abbattuto un proprio aereo sul territorio russo intenzionalmente un aereo così che poi sarebbe precipitato in territorio ucraino insomma e no anche questo stride con queste con queste versioni non mi sembra tanto normale abbattere un aereo stealth sul territorio nemico di proposito quindi non so a questo punto o il pilota che ha fatto questo abbattimento era di fatto veramente russo ed è impazzito ha deciso di farla fare questo gesto inspiegato oppure è stato un caccia ucraino le spiegazioni a questo punto si riducono a due però come ho detto aspettiamo versioni ufficiali da parte ucraina se sono stati loro lo diranno e ci spiegheranno come sono andate le cose con fido almeno ora come ho letto alcuni commenti alcune versioni che a quanto pare vedono coinvolti gli F-16 ucraini non credo siano stati gli F-16 per due ragioni la prima è che si vede adesso allargo l'immagine si vede la scia del missile questa scia qui questa scia bianca molto vistosa molto ben visibile e questo tipo di di fumo lo emettono solo i missili russi se parliamo di missili a corto ragio in particolare punterei il dito contro l'R-73 che è il classico missile a corto raggio russo per questo tipo di combattimento è molto manovrabile è un missile molto performante ma fa molta scia al contrario del missile equipaggiato dalla F-16 che è la IM-9 M o L che sono missili altrettanto validi ma fanno molto meno fumo la scia che fanno è molto flebile quindi quasi trasparente altra cosa che esclude l'idea che si tratti di un F-16 è che nella sua virata di disingaggio l'aereo che ha lanciato il missile lascia due scie e due scie significano due motori di conseguenza le possibilità di spiegazioni sono molto poche può essere stato o un MiG-29 o un Su-27 nel caso di aerei ucraini o eventualmente un Su-30 o un Su-57 o un Su-35 russo se si tratta di fuoco amico intenzionale in ogni caso mettiamo insieme tutto quello che ho appena detto che escludiamo l'idea di un Su-25 se si tratta appunto sarà confermato di un drone stealth russo Sukhoi S-70 spero di ricevere notizie più precise da parte ucraina altrimenti sarà un grosso mistero da risolvere se sono stati veramente i russi andiamo avanti per concludere vi porto alcune rettifiche per quanto riguarda l'attacco sempre da parte ucraina all'aeroporto di Boris Oglevsk dove sono arrivate immagini satellitari più dettagliate che mostrano danni agli Apron e in particolare al raccordo che porta alla pista dalla taxi qui in quest'area ci sono depositi di probabilmente carburante o munizioni che hanno preso fuoco e poi gli incendi si sono distribuiti e diffusi all'erba circostante così come vediamo incendi presso la Apron dove sono parcheggiati gli aerei non ho altre notizie da darvi da questo punto di vista nel senso non ci sono conferme di danni agli aeroplani al momento mentre la rettifica più importante che devo fare oggi riguarda la pista di Latakia presidiata dai russi in Siria che ieri riportavo come attaccata da un attacco israeliano allora devo smentirla nel senso una parte allora quello che è stato dichiarato è che gli israeliani in realtà hanno colpito un deposito di munizioni e armi iraniano vicino a questa pista più vicino alla costa a sud ovest della pista quindi i residenti che hanno postato i video non vi posso mostrare ma ci sono gli incendi visti dai residenti e passati proprio su X mostrano che quell'aria è stata colpita e quindi questo gli ha fatti dire che la pista era stata colpita no quindi non è stata colpita direttamente la pista russa quindi gli israeliani non sono impazziti a dichiarare guerra alla Russia ancora però però ecco il fatto che abbiano colpito un deposito di munizioni iraniano così vicino alla pista russa è un segnale in qualche modo ecco io la vedrei così e comunque non è proprio una gran cosa perché in qualche modo la pista russa avrà attivato le sue difese avrà cercato di difendere l'area normalmente avviene così non è che le difese le difese missilistiche non è che difendono perfettamente il perimetro della base sono ad area ad ampio raggio in particolare eventuali S-400 dichiarati presenti in quell'area avranno cercato di intervenire su questi missili da crociera anche perché si parla di un attacco condotto sia da terra che dall'aria ok ma anche su questa notizia allora smentito il fatto che sia stato attaccato direttamente a un aeroporto presidato dai russi aspettiamo ulteriori sviluppi e con questo è tutto e quindi vi saluto a questo punto vi rimando a domani dove tornerò alla postazione fissa e migliore qualità del video questo è di nuovo il drone S70 mi raccomando se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace se avete domande proposte da farmi richieste qualsiasi cosa mi raccomando scrivete nei commenti e come sempre un abbraccio alla prossima